Quasi 5 milioni e mezzo di bambini muoiono ogni anno per malattie prevenibili e curabili. Uno ogni 5 secondi. La malnutrizione è la principale responsabile della metà di queste morte. Stai anche tu al fianco di Save the Children. Dona adesso al 45533 per dare ai bambini acqua, cibo e cure. Contribuisce a salvare le loro vite. Insieme possiamo vincere la malnutrizione. Grazie per la visione.